L'iniziativa è del commissario prefettizio del comune di Trali, Maria Rita Iaculli, dare mandato alla dirigente dell'area economica finanziaria affinché completi gli accertamenti sulla società AMET IGS e all'esito degli stessi verificare se ci siano le condizioni per un'azione di responsabilità nei confronti del commissario liquidatore della società. E Gino Simone, ex assessore e commissario liquidatore di AMET IGS dal 2009, chiamato in causa dalla delibera del 30 maggio scorso, ha preso carta e penna per ribadire che a lui non è imputabile nessuna responsabilità perché AMET IGS non ha soldi e non ne sono stati sperperati in questi sei anni di gestione commissariale. Questione controversa, quella della società costituita nel 2005 dal comune di Trali e messa in liquidazione subito dopo. Da dieci anni AMET IGS è una scatola vuota che però, come ricorda Simone, ha dovuto fronteggiare richieste di fallimenti, decreti ingiuntivi e difendersi contro l'agenzia delle entrate, vincendo due ricorsi che hanno fatto risparmiare al comune di Trali, sottolinea Simone, almeno un milione di euro. Il commissario prefettizio però, in più di un'occasione, avrebbe sollecitato il commissario liquidatore di AMET IGS a portare in tribunale i libri societari. Scelta contro la quale Simone si oppone, evidenziando ad esempio come AMET IGS sia creditrice di 50 mila euro da parte del comune di Trali. Un botte risposta, insomma, che potrebbe proseguire anche nelle prossime settimane, anche se il commissario liquidatore di AMET IGS, su una questione non ha dubbi, lui non ha mai gestito risorse e quindi non ci sarebbero le condizioni per avviare un'azione di responsabilità nei suoi confronti.